Una settimana di passione, la grinta delle avversarie, il rumore del pallone, la tensione che sale al massimo e poi la rimonta, il muro decisivo, l'urlo liberatorio. Campioni, campioni d'Italia. Il Piemonte femminile trionfa per la quinta volta al trofeo delle regioni e Piemonte Volley Online dedica all'evento dell'anno un numero speciale da non perdere. video, foto, interviste e suoni dalla Basilicata, teatro della Kermesse e della splendida prova delle ragazze di Massimo Moglio, ma anche del Piemonte maschile che chiude con la conferma dell'ottimo quarto posto del 2013. C'è solo un modo per sapere tutto sulle kinderia di 2014, sul trionfo rosa piemontese e su tutte le news e le rubriche più interessanti del web. PVO, il magazine multimediale che non puoi davvero perdere, per nessun motivo. Parola di campioni d'Italia, il volley vive qui.